e che balaie non ci penserà a tradurre i rupi bene, ok allora, mettiamo qui il testo perché molti rupo non lo faccio ci siamo? e allora ci siamo? così qua nel momento in cui noi cominciamo a cantare con le mani andiamo a ritmo ci siamo? e lascia vivere e lascia mi sbagliare se non c'è il santo e non so stare e io non posso restare se un'altra macchina è arte del pace non sono capace di stare a me guardare e di un po' di vita e noi non provare un primo in tempo e corrermi contro il suo per nieo e la un'altra macchina che visto e nor Forbes e che basta e le mani andiamo a remontare grazie 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 a poko